Il sindaco Alessandro Del Dotto tira dritto e conferma l'addio del comune di Camaiore a Sé Ambiente. La società di raccolta dei rifiuti condivisa con Viereggio è presieduta da Fabrizio Miracolo, rispedendo al mittente la missiva con cui Reti Ambiente, poche ore fa, stoppava il divorzio approvato dal Consiglio Comunale Camaiorese prima di Natale. Secondo il gestore unico di Aria Vasta, il sindaco non può lasciare Sé perché la decisione spetta all'autorità di ambito regionale, ma Del Dotto, carte alla mano, risponde per punto. Il contratto con sé è scaduto a febbraio 2017, sostiene, come risulta dai verbali dell'Assemblea dei Soci. E i rapporti, prosegue Del Dotto, sono comunque terminati con la cessione delle quote comunali alla stessa rete ambiente. Il parere di Ato non serve. No, non c'è nessun parere di Ato perché poi noi come comune nel frattempo siamo ancora a depositare delle funzioni di contratti di gestione. Come dicevo prima, Consiglio di Stato è tardi nel 2017, nell'ambito della vicenda Livorno, che voleva ovviamente costruirsi un percorso tutto suo, ricorda però che prima che venga attivata rete ambiente come società operativa, fino a quel momento i comuni continuano ad essere depositati delle funzioni di gestione. Credo che sia tutta una questione soltanto di fantasia, credo che probabilmente ci sia anche un'evidente difficoltà della direzione, della presidenza di sé ambiente, che magari aveva raccontato che andava tutto bene, diceva ai sindacati e ai lavoratori che non c'erano problemi, poi in realtà questo non è vero. Il cammino di Camaiore è ben impostato e proseguirà tra l'altro in maniera anche abbastanza celere nelle prossime settimane. Il futuro per Camaiore sarà Ersu, con cui il comune intrattiene già rapporti, avendo affidato da anni il servizio di trattamento del lavorone dalle spiagge, oppure se l'offerta di Ersu non sarà adeguata, si costituirà una società municipalizzata propria, sancendo così l'uscita del comune anche da rete ambiente. Non c'è una strada pretracciata, dipende da che tipo di offerte contrattuali arriveranno, rispetto a quella che è la bussola direttrice del comune di Camaiore, ossia il piano industriale che abbiamo fatto con Esper, che è un piano industriale che prevede tutta una serie di misure, tra cui ovviamente lo spingere sulla raccolta differenziata e anche su una riduzione nel tempo dei costi. Sul tema interviene il presidente di Seambiente, Fabrizio Miracolo, che sottolinea il contratto con il comune di Camaiore è a tempo indeterminato, non a scadenza e a noi non risulta al momento nessun atto di recesso da parte di Camaiore. Miracolo, in merito al verbale del febbraio 2017 citato da Del Dotto, precisa che si faceva riferimento alla scadenza della concessione in salvaguardia, ma non del contratto. Lo stesso comune, nei mesi successivi, ha conferito le proprie quote a Reti Ambiente, aderendo a dato. Finché non sarà operativa a Reti Ambiente, Camaiore è legata contrattualmente a Seambiente. Se ci sono documenti o cose che non conosco, conclude Miracolo, chiedo di esserne messo a conoscenza.